A distanza di mesi dall'acquisizione delle case di cura Dunuva da parte dell'Universo Salute SRL, la riorganizzazione del personale appare ancora in alto mare. I portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale tornano dunque a chiedere il piano industriale dell'azienda, richiesta già avanzata a febbraio dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, ma ad oggi rimasta in evasa. Due le richieste inoltrate, una dai neodeputati del Movimento Davide Galantino e Rosa Menga all'indirizzo del Mise del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la seconda inviata dalla stessa Antonella Laricchia all'indirizzo del Presidente della Puglia e del Presidente della Task Force sul Lavoro e le Crisi Aziendali della Regione per approfondire le condizioni per la sostenibilità, la gestione e l'organizzazione del lavoro, dichiara Laricchia. Abbiamo chiesto al Presidente della Task Force sul Lavoro che le crisi aziendali vengano immediatamente risolte. Urge conoscere il piano industriale riguardante i complessi aziendali di Biceglie, Foggia e Potenza, redatti dalla Universo Salute, che nel mese di febbraio ha acquisito la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria. Una richiesta inoltrata anche dai nostri parlamentari Menga e Galantino all'indirizzo di Mise e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I pazienti hanno bisogno di essere debitamente seguiti ed i lavoratori, a cui già è stato chiesto grande sacrificio, meriterebbero finalmente, conclude Laricchia, quella serenità auspicata con il passaggio di gestione.